...parlare, però ce l'ho spiegato di modi diversi. È il tipico della domandia, di solito, portare i bambini nelle scuole e le decisioni di investi, per essere in Italia, e poi un crescito di vita che le decisioni di investi sono cose che non sono così interessanti come alcune. E oggi cercherò di cominciarmi a ricordare, perché, evidentemente, di cose interessanti, di curiosi, di misteriose, sull'anno di investe, c'è le scuole. Domande di rito. Qualcuno di ossimo? Quale pubblico? Nella Valle Comunica? Turisti? Da dove? Che zona? Brescia. Iniziamo a Ponsa, in Ponsa, in Ponsa. In Ponsa, in Ponsa. Brescia? In Ponsa, in Ponsa, in Ponsa, in Ponsa. Benissimo. Avete mai visitato la Ponsa? Che zona? Ponsa, in Ponsa, in Ponsa, in Ponsa. Ponsa, in Ponsa. Ponsa, in Ponsa. Tu l'hai giù che ci ha? Ci vede habe? Ci vede normale? Sì! Il grande bacio del di Ponsa, in Ponsa, in Ponsa, in Ponsa. Noi, grazie! Potremmo sempre parlare, tu. Diciamo che il maggio faccesso della nostra camera in questa si trova tra Nardi del Centro e Capitoli. tra l'altro sono le rocce di velbo e adesso vi farò vedere una parte l'immagine che hanno avuto lì Ossicuocole, che avete citato giustamente, e questa è una poca il moderno panorama della fila Serovia Monta perché ci sono queste cose strane, che sono masscoli sostanzialmente, sono queste specie di grossi pilastri, di dati di tarino, che non si trovano per tutto in qualche volta perché le nostre rocce sono ancorate dal tarino e non sono masscoli Perfetto, quindi una varie idea di cosa vogliamo parlare, non c'è la... Partiamo... No, secondo la Valleca Monica, ne ho introdurre un attimino, ovviamente, è molto legata, ma anche in questo, al territorio della Valleca Monica La Valleca Monica, come nasce, è una valle alpina, è una valle alpina che è un'origine grazia Di solito a scuola si impara che le Valle hanno un po' il tipo di origine le Valle antiche e le Valle unica e si trova, solito al centro, un fiume, usate le valli fluviali, ciò finisce una corsa da fiume che fa scuola i volati dalla lontana e la scuola in mezzo La Valleca Monica non è una valle alpina, ha una base autore che è molto pieno di queste immagini, la Valle unica che formazione ha non ha una situazione fluviale, ma ha una situazione glaciata Come vuol dire? Sapete bene che circa 20.000 anni fa, 15.000 anni fa, è finita l'ultima era di acciare più lungo, che è un poverino molto diverso, in cui gli acciai erano più aperti tra il Valle il Valle. La Valleca Monica si è informati per il periodo, circa 15.000 anni fa, con i loro degli acciai prima di armi, attraversava tutta la Valleca Monica, partiva da punti redditorale, oggi quel ghiacciaio, il ghiacciaio dell'Amena, fin anche appunto, dall'Amena partiva questa lingua di ghiaccio, scendeva attraverso la Valleca Monica, arrivava a Bisogna, passava oltre il grande desiderio, arrivava in Freccioporto. Freccioporto, non essenzialmente mai sentita l'uminare, comoso per i bimbi, soprattutto zona culinare, zona culinare non è un caso, è una moglie del ghiacciaio, ovvero è il ghiacciaio che ha spostato verso il sud la terra, il terriccio, il terreno, e ha creato appunto questa zona culinare, che era una parte terminali di Ghiacciaio. Se avete presente il lago di Galta, che è in una parte verso il ventino, che è appunto in una parte verso il ventino, che è appunto in una parte verso il giornese, le tombe giante, il concetto è quello, nel senso di Ghiacciaio, partendo dall'alto, spinge ora sull'ossi in grado, una zona culinare, che ancora oggi è stompa, siccome c'è un ghiacciaio anche sul ventino. Quindi, questo per dire, la facciata prima era fatta con te, perché tu vedi la macchina, sostanzialmente, e se stanno vivendo i bori là, dovremmo fare anche nel grado, non provarci a fare i bori. Allora, in modo, la macchina di Ghiacciaio è sempre 15.000 anni fa, da 15.000 anni fa il ghiacciaio e poi la macchina di Ghiacciaio, non scegliere la macchina, piano piano gli acciai si continuano e lasciare spazio, prima la macchina di Ghiacciaio, poi la macchina di Ghiacciaio è una gravità, in qualche modo, comincia a entrare in questa modalità. Entra, seguendo le mani di mare, che naturalmente, c'erano la mani trans-marca, oggi lo facciamo in un modo organizzato, ma non è che le mani si spostavano verso la montagna di Stare, verso la prima di inverno, no. Seguendo le mani, perché erano l'ultima scuola, non c'erano la mani trans-marca, non c'erano la mani trans-marca. Una cosa importante, non stiamo parlando di un uomo scioglio. 15.000 anni fa, siamo già all'interno della fase dell'uomo, chiamata Homo Saturns. Quindi erano persone uguali di vita. Quando ci immaginiamo con un'altra pesta, in disegno, sulle rocce, a proprio bravo in era, non dobbiamo desinarci persone di trentini, erano un po' più uguali di vita. E' un certo punto, ecco, chi era questo? Non erano, perciò, gli detti, si sono riscritti di un punto di vista, non erano ammalatis, di un eretros. Non è neanche attesa, in parte contemporane, all'uomo sapiens sapiens, come siamo noi, ma all'oledità, questi erano tutti gli uomini sapiens sapiens, erano mai gestiti da un po'. Da un video. La storia è un mondo, è una storia lunghissima, io ho messo due date per darvi un qualche ambiente di Margo, pensate che la terra, l'universo si è formato tra i 13 miliardi e anni fa ed è curioso di pensare che fino a metà dell'Ottocento, prima di arrivare all'arrivo della teoria evoluzionistica di Charles Darwin, si pensava che l'uomo fosse circa attorno ai 5.000-6.000 anni, non più. Quindi un periodo veramente breve, che oggi noi più o meno lo leghiamo alle antiche civiltà nostrottaniche, l'universo si pensava al 29.000-6.000 anni fa, l'universo molto molto, più o meno tutto. Dove vittavano queste persone quando vivono in qualche volta? Prima erano seminopadi, dovevo immaginarsi che i teghe, i teghe che si smontavano, si smontavano, ovviamente seguivano gli animali, quindi avevano bisogno di essere anche molto flessibili. Quando si esauriva il multimedio in un certo posto, si smontava, ci si spostava 20-30 km, si smontava il campo, si mangiava tutto quello che si trovava dalle bacche, agli ricchi, ai frutti, agli animali. Quindi, quando si è esaurito, si è fatta tutta l'analisi, si smontava, ci si spostava. Se no, in un metodo abbastanza distrutivo, che però è tipico dell'analisi umano, non è che si curava molto di queste cose, ovviamente, con tutti gli animali, l'importante è adottirsi. A un certo punto, parla della storia, c'è una rivoluzione epocale, che è la rivoluzione neolitica. Cosa accade? L'uomo smette di essere un uomo nobile, che si muove, appunto, immagicare il suo nutrimento, ma produce il suo nutrimento. Quindi smette di buttare un capparniere, come il tapicco, quello che viene in America, e comincia invece a costruire case che si fondano sull'alto. Qual è l'ultimo cambio del suo metodo di vita? Perché cambia il suo metodo di alimentazione. Scopre nel colturo. Ovviamente, se avete mai visto un orto, o avete mai durato un orto, sapete che semia più seme, quando comincia che c'è la bianca, potete lasciarla crescere da sola, andate negli essi mesi, e poi ritornare, e sperare di avere un'alto di medicina, di un'alto di durata, di piada, sono queste attenti che gli uccelli, quando avevano già il seme, per esempio. Questo obbliga l'uomo a diventare da nove astretti. A forza, ci si poteva fare, quindi si costruisce una casa, e il caso si costruisce un suo appiccio. Assieme all'agricoltura scopre anche l'allevamento, ovviamente, dei primi animali che sono stati allevati, quindi animali simpatici, che hanno invece potuto abitare con l'essere umano, si parte dal cane, e poi tutta una serie di animali, che hanno cedito anche delle trasformazioni talmente grosse, che oggi questi animali, in natura, non uscirebbero neanche a sopravvivere. Pensate un po' alle munti, alle vatte. Sono talmente insidiosi con l'uomo che non essere niente ogni giorno, e se oggi voglio ritrestare, per uscire comunque, per preparare il sole e la sabata, dopo tre giorni muoio. Sono talmente insidiosi con noi, che sono ormai inadatte proprio a noi. Abbiamo adattato determinati tipi di specie, appunto, alle nostre esigenze, e oggi sono talmente in Italia che non esiste pure più la messa originale, che sarà di vivere dal bufano, sostanzialmente. Così come tante altre specie che vengono allevate. Perché i cani, abbiamo detto, che vengono poi, con cio di lupo, allevati e selezionati. Questo è il tempo. Abbiamo detto le vatte che derivano dall'Uno, per questo bufano originario, diciamo, all'Europa. Ci sono tante altre specie. Ci sono dei polli, quindi pollame, che è un altro tipo di animale che è stato messo in sedia di nuovo, che sono sostanzialmente grossi uccelli, e tante altre specie che ormai conosciano. Non tutte le specie possono essere domesticate. Nessuno va al giro con un leone ad un zango, perché ovviamente ci sono specie che riescono a mantenere questa bontà verso l'essere umano, di generazione in generazione, ci sono specie che riescono ad essere domesticate, ma per non tutto quella generazione successiva. Ovvero non riesci a creare quel circuito che ti può avere il fondo di animale a determinati tipi di specie animale per riferire. Velocemente, non sono due farmi una generazione scolastica, però, due nozioni chiari di usare. Abbiamo detto, paleolitico, l'uomo era nobile, neolitico, diventa sedentario, a un certo punto l'uomo scopre delle tecnologie fondamentali che avrebbero nel corso della sua storia. E sono cosiddetti i periodi dei metalli. Cosa sono i metalli? Sono i primi attivi di pietra, che elaborate, appunto, creano, e sono i variabili di scoprire degli strumenti che non si possono creare semplicemente scolpendo la pietra. Il primo materiale di un metallo che mi ha scoperto l'uomo è il ray. Queste date, vedo qui, quattro di lei, ragazzi non vengo, e in verità, ce l'ho ripeto il libro di storia, potresti trovare dati diversi. Per quale motivo? Beh, perché non tutte le civiltà si sono evolute con la stessa lunghezza. Queste date variano molto per la zona delle Alpi. L'età delle Alpi, per quanto riguarda appunto l'area delle Alpi, l'età del Rami, quindi la rivoluzione del Rami, risale a circa 3.500 anni eva di Cristo, mettiamolo così. Beh, il miso potabile aveva già scoperto molto piccolo, l'inferiore all'attrazione è molto complica. Se invece pensiamo agli armonici dei misoi agli anni, beh, nel 1800 dopo Cristo non erano ne ancora arrivati a 3 anni, perché sono rimasti fieri di rispondere al dito e come si viesse nel palio d'ora. Quindi ecco, bisogna di sempre avere chiaro che con la separabilità, che ho scritto appunto una tecnologica, bisogna anche vedere di quale civiltà si parla, perché in base ai cambiamenti di civiltà ci sono cronologici diversi. Semplicemente appunto il primo materiale scoperto e lavorato nuovo è il problema. Quindi abbiamo fatto la coletta di una volta, abbiamo detto che siamo qui nella Lombardia, il bagno di rame è fondamentale per la cucina. Il taglio del bronzo, che è successivo al bronzo, non è un materiale scoperto di natura, ma è una lega, se non vuol dire, è un insieme di due metalli diversi, che sono quindi il rame e lo strato. è leggermente più fragile del rame, ma è più resistente però. Quindi è, diciamo, una lega che, per esempio, armi più affilate e armi più resistenti rispetto a quali fattori. Infine, metà del ferro, che qui per la valle canonica sarà una rivoluzione locale. La valle canonica è una valle ricca di miniere di ferro, soprattutto sul versante oronico della valle canonica, e infatti vedremo che era un app dell'arte investita della valle canonica risale proprio in questa epoca. Perché probabilmente, in questa epoca, i commerci hanno permesso agilità della valle canonica di durare abbastanza da permettersi di pagare le persone appositamente per fare i lavori in città. Quando finiscono queste età limitate, sostanzialmente si fanno finire con le tante. I romani, questo argomento di oggi, ma della prossima lezione, in età romana, in valle canonica, inizia anche se si dice oltre a questo. Quindi penso a prendermi un problema. Non teressi. Quando l'ogia in una padana era normalizzata l'anno già 200. Megalettismo. È un discorso molto interessante con i diventi. Abbiamo accennato brevemente prima quando parlavamo appunto di ossifomole, che è la fine degli enti in questo contesto. Megalettismo cosa vuol dire? Megalettismo. Grande vita. Sono queste grosse strutture in pietra che sono diffuse in tutto l'Europa, soprattutto a partire dall'età verale, che deve essere il primo metallo, quella più edificata in pietra, più strano o strano adesso. Vi ho sentito magari di nomi strani che compaiono spesso anche in televisione, sulle primi strutture in cromlet, come il Caern, come il Dolme, il Mimino, che differenze c'è. Il cromlet, non è intanto che è una disposizione circolare di queste grandi pietra. È una disposizione abbastanza comune, anche perché spesso queste grosse costruzioni megalettiche sono associati al punto del Sole, quindi lini alle osservazioni astronomiche, quindi il disporno, come se il pietro acendio, corrisponde ovviamente anche un po' all'altro di un pianeta o qualche affermamento più buono acendolo. I Caern sono i muri di pietra essendo, in un libro in particolare per fare un muretto di pietra essendo, un pietra essendo senza nessuna collante di mezzo, senza cemento, mettere uno sopra l'altro a fare una piccola pietra. Sono disposizioni comuni, molto antiche anche queste. Oggi, ad esempio, rimane nella tradizione di chiedere in montagna, costruire i piccoli ometti che si trovano con questi bietri di alta botta in realtà è un retaggio culturale che risalve a sapere più alla pietra. I donne, invece, sono dei grossi dammi, avete una terapia storica? Il famoso sito inglese, questo, è un donne, ovvero un pietra o un pietra del titolo, è una pietra grossice. I menti, invece, sono legami del tavolo, puntiamoli in questo modo. È un tavolo senza la proprietà. Sono i nostri speroni che sorgono da terra e quello che ci succede alla comunità. Sono questi piccoli massi meriti, che sono così chiamati, perché appunto emergono dal terreno, ma non ci allungono solo del tavolo, sull'info. E poi c'è questa particolare costruzione, particolare artefatto che viene diventa come una statua stela. La statua stela viene fatto che una stela quindi un masso, però che è stata elaborata in modo tale che abbia delle forme che somigliano all'essere umano. si vede queste pietre che sono troppe. Sempre in Italia in alto, come una minigiana della parte della Toscana, vedete che sono stile delle pietre, sono quasi dei mascherini, però che si vede il naso degli occhi, si vede il coltello, si vede la braccia. Questa è una stela maschile, non so, si riesce anche a distinguere il sesso delle stelle. Questo è uno stile coltello, poi invece si sente il naso degli occhi e poi si vede queste le stelle femmini. sono molto curioso, penso che gli archeologi associano queste statue stelle ai punti dei piantenati. Quindi piantenati, morti, di solito viene poi filmizzato nelle società terribali e primitiche e quindi ricordato quasi come diventato. Se è uno spazzo, pone avuto qual, nasciato nel religio e nel senso orale. I nostri massimi della vita. questo è una fila che viene dietro, diventa la mazzare del pubbile, non so se avete visto, è praticamente l'ultimo barco che è stato inaugurato in una marca monica l'anno scorso, se non sbaglio. Sono dei massi che si trovano sull'orto piano del sole. Ecco, l'orto piano del sole, l'azombra del suo morno, è molto particolare perché qua c'è una nuova progettazione di questi massimi che non si trovano solitamente in altra zona della marca monica, a parte appunto sporadiche eccezioni come la zona dici. Insomma, diciamo, l'idealica monica di un ponte, dove c'era pieno di Salsino, quella bellissima chiesa a Stapionto sul filiologo. Beh, lì c'era un piccolo santuario del canterraneo, come ci troviamo sempre in epoca prima dell'esame degli anni non c'era almeno 20 stelle che è andata in Italia. Se siete presenti un po' stondici, immaginati che non c'erano delle piccole stondici, la tavola sopra imbaricavano delle piccole stondici con questi massi che erano verticalmente. Qual è la nostra particolarità con un valido monte? I nostri massi che erano verticalmente non solo semplici massi, non solo delle statue stelle perché non hanno delle volte delle persone come quelle che abbiamo visto ad esempio di Minigiana o Toscata, ma sui medici ci sono soppreventi segni come un po' le rocce decise quelle fisse immobili dell'Italia. Siamo appunto siti importanti per questi massi cioè sicuramente c'erano con i soldi massi osservato invece da questo lato dove ci sono state trovate circa 30 in verità su tutti i siti ancora un corso di schiavo in questa zona di Osteopac dove state emergendo delle documentazioni veramente interessanti ma quindi partecipare a quello che sarà poi il tema del prossimo incontro cosa succedeva con questi piccoli santuali breve centri ovviamente se potete vedere la prossima punti il sito vi spiegheranno i dettagli erano un santuario abbastanza curioso prima di tutto abbiamo trovato come ho detto delle decorazioni sulle facce per far vedere alcuni dei siti che si trovano decorati su questi massi erano posizionati su zone che erano state arate erano hanno trovato di sempre più chiaro l'aspetto che erano prima di presentare questi massi aratono un'area più raffale che erano legati alla fertilità si accendevano dei fuochi che a volte sono definiti con nome di Escribera di Brandhoferplatz però erano i grossi paloi dove si tuttavano degli oggetti che non non si deponevano degli oggetti un po' come andare in Giza e trovare gli altari della Madonna pieni degli sport ma è una funzione di questo genere e le persone tendevano a portare dell'oggetto in quel momento questi sono due dei prodigini di due massi di piccole stelle che sono state trovate qua e dal terzo a sinistra vediamo il masso al psicologo famosissimo perché se osservate al centro c'è questo ornone in testa con questo solo sulla testa ma è quello che è anche simbolo della Totina del Sole quindi ecco ossimolo la matrice del nome poi di questo vedete che di solito ci sono delle figure umane molto stilizzate braccia aperte di solito cellula principale chiaro e complicato come vedremo poi dopo gli antichi ramoni davano molta importanza a questi complicati spesso sono raggiati spesso sono piumati a volte non si capisce se hanno i capelli accrociati con uno strano comunque ci sono le persone che hanno queste accrocature molto e lavorano e ecco in questo caso ci sono solamente treppo sotto a sinistra due a destra ma ci sono altre massi che ci sono proprio cordate di muovie di fianco e l'altro che si fanno la mano come si stesse facendo dei reti insieme di palli e cinque si trovano delle armi queste sono l'ashe qui guarda qua queste armi abbastanza comuni armi ashe un che è grande quindi manico deve tutta rossa in grande oppure la rimane e vedete così quindi vedete il rimane in questo un altro simbolo che si trova spesso con questi massi che è un simbolo molto importante è questo tipo di lineare che sembra così non paremmo questo simbolo è una lama triangolare che si trova all'interno ecco questo è il simbolo di lineare a scrivere delle lineare schiombo che sta portando il migliorissimo come nella zona di perevello come si trova di perevello di perevello nella zona di perevello che è il peso della massa purtroppo un singolo oggetto si è fatto in metano con questa è una parte di un certo peso perché le protezioni alla parte del metabolismo si può fare in un momento su una pietra sulla roccia non si può fare la realtà della roccia per vedere quando si è fatto l'oggetto però trovando questo oggetto in un altro modo si può realizzare il crono del moto per subito capire qualunque questo oggetto è un'attualità della rama quindi 3500 trovando questo oggetto di lineare su una roccia qua chiaramente un massimo di 102 si può dire che tra l'altro questo oggetto di insegnante si può assicurare la logica che fosse l'uso nel momento in cui ci siamo disegnati non è che uno va a disegnare un oggetto che non è il primo passo o che è a parte dei nostri strumenti ma è un'attualità che ce l'aveva e quindi si fa disegnare tutte queste rocce dei nostri genitori gli impariati dei nuovi stati dei compagni vediamo l'oggetto che sarà trovato quindi è un gioco molto importante perché la canna ci dovete capire quando è stato fatto il disegno sulla roccia questa è la cosa che probabilmente avrete già visto la prima parte perché è celebrata con il periodo di bianco che è famosissimo a me qualcuno ha fatto usare la preghiera e la famosa lumine simulare che è stata trovata in alto abise quindi una scoperta eccezionale quindi un tempo si pensava che si era scoperta appunto per il giramento da questo di bianco di bianco di bianco di bianco di bianco e antico di bianco di bianco di bianco di bianco è ricomparsa con tutti gli estivi, tutti gli oggetti, tutti i disegni sulla pelle che arriva addosso e è stata analizzata nel medio montagno, sono dicendo che appunto i toni scienziati la analizzano e scoprono continuamente l'informazione di nuovo. Ad esempio questo, prima di tutto, è la sua ultima costruzione. Poi la rifà aveva un volto diverso, hanno fatto normalmente i nuovi studi. Questo è l'aspetto che dovevo avere l'uomo in 3500. L'uomo che faceva l'esempio è il primo, l'uomo che dà ai tutti a ottimo patto. Come vedete, non c'è vera nulla, quindi era esattamente. Come vedete, analizzando il corpo, analizzandovi settimana, scoperte informazioni, veramente analizzando, innanzitutto non si è aperto quanto era alto, io ne ero altissimi, ma non c'è sangue, non lo mette, non lo mette. Bisogna 5-5 minuti. Bello cosa. Abbiamo morto i pazienti. Pensate, sono riusciti a far finire il colore, ormai gli occhi. E' morto fino a 85 anni. Come è morto? Non lo c'è sempre. Per essere morto in un'altra persona, sicuramente sta probabilmente cercando di passare in barco la materialità dell'Avster for Shepard, nella zona nostra. Hanno trovato sul suo corpo un'altra interventa, cioè dove si va qua, e hanno finalmente dato la colpa a un momento in una dietripa che aveva avuto questo uomo con altri membri del suo compagno di testa, che ha visto una freccia, ovviamente è morto e bisanguato, e mi fregno durante la notte in un'altra volta, e quindi il corpo è stato proprio aperto da nevi, e lei che ha lasciato da un'altra parte. L'ho aperto addosso tutta una serie di giardistiche, molto interessante, dalle armi, dall'arco, da una specie di marsupillo, dall'autografia di verizoma, che è addosso, quindi sappiamo esattamente come si vestivano queste persone. Avevano anche un piccolo compacco di pelle d'orso, con i dettagli veramente interessanti che prima si immaginavano solamente, o si intuivano, associando il nuovo preistorico, a civiltà primitiva, con le stereologiche, in questo modo. E' in effetti molto simile al di cui ci sta. Adesso ho detto che cosa avevano mangiato, sull'ultimo pasto è stata una piccola pappetta di farlo a carne, pure finita una piccola zuppa, ma la cosa forse più curiosa è il fatto di aver scoperto il rosso, più di 50 tratturaggi. In verità, il tratturaggio è un'esperienza, in una moda moderna, una cosa che già si faceva 15.000 anni fa. La cosa più curiosa è tutto il numero di questi tratturaggi, e la forma di questi tratturaggi. Sono in gran parte, nei croci, in corrispondenza di tutela di tutela, c'è in zone strategiche del corpo, sui gomiti, sugli angoli, dietro la schiera, sulla cordola di tutela. Questo fatto ha portato l'archeologia a pensare che probabilmente ne erano tatturaggi fatti per essere visti, per costruire i membici, ma sicuramente per essere tatturaggi fatti a scopo terapeutico. Ovviamente da un adottore, il dottore diceva, guarda, ti faccio i miei tatturaggi, e di altri. I tatturaggi, sapete, si fanno oggi con delle cilindri che riniettano l'inchiostro sotto pelle. Come faceva la faccia i tatturaggi i nostri uomini, circa 1.000 anni fa, beh, come fanno oggi? Nel tributo dell'Africa centrale, si fanno in tagli, ci mettono sopra della carbonetta, rispettano che la ferita si immagina imprigionando la carbonetta sottotella, in modo che immagino il disino. Velocemente entriamo nell'età dei ferrami. che mi ha detto essere la più importante per la Val Cabocca, perché noi mi andiamo via di ferrami per la valle è stato il cru, un elemento fondamentale. Questa era la popolazione che abitava nella zona alpina, circa 1.000 anni fa, e quali sono? I piccoli, questa zona gialla, zona culturale più o meno omogenea, con c'erano comuni, reti e verdi, i centri, i centri, una popolazione che viene da centro Europa, zona una Svizzera, un'altra Austria, e poi sono entrati piano piano in Italia e si sono suddivisi in tutta una serie di piccolazioni che sono Carozzi, Salassi, inscrivi i genomeni particolari, che stanno in una zona alpina, inscrivi, a livello dell'altra, la zona unianese, i genomani, e la parte della scienza. Due parole di oggi, i reti, stanno nella zona del Trentino, oltre l'Adige, una popolazione abbastanza stante, non particolarmente medicosa, molto radicata sul terreno, è andato molto festivo, ad esempio, i romani, quando cercavano di passare in breve per andare in Austria, sono stati anche loro sottomessi, come i camuni del Torno 16 a.C. Con i camuni, in comune soprattutto nel tipo di imbitazioni, in tipo elettrico, che sono queste case, con i grossi e leoni, grossi e leoni, grossi e leoni, che si trovano su una settimana, ad esempio, non so, in Austria, in Svizzera, queste grosse case, con le murature, in legno, nel blockbau, si trovano molto spesso, con i detti, che si erano qui, che non avevano le coperture di laterizio, quindi non c'era tegola, mercoled, dietro e bianco, che noi abbiamo detto chiamato il piole, o il crotto, la salina, la resina, in Megamasta, il concetto è quello, e eravamo fatte con un piano, come vedete, qui sotto, un piano semindarrato, che entrava nel terreno, semindarrato, perché è solito erano case, che sulle coste, le montagne, probabilmente, si incassava il piano di base, che era fatto in Mitufa, e poi si ageva all'esterno, il piano di Mitufa. i Veneti, altre popolazioni di Mitufa, erano una popolazione diversa, da tutti i paesi circostanti, ovvero l'incertica, le reti, sull'altro, erano una propria identità, molto particolare, abitavano l'ordineo Veneto, che è il punto nome di questa popolazione. Una popolazione, anche questa, una franza bacata, non molto velicolo, anzi, divende scritto, durante la conquista romana, si arrivò scritto con i romani, preoccupata con tutti i centri, per esempio, in certi casi, molto più scritti, verso la più romana, e, diciamo, una scritta, che si è guarda molto bene, che avevano la sua identità. I tristi, che invece, si trovavano in un certo età, e che sono molto importanti per la storia della barca romana, perché, dal primo scritto, è diventato scritto. Se il titolo, ha imparato una loro scritta, dalla scritta, dalla scritta, dalla scritta qua, vediamo una piccola scritta, e in alto, il camuno, che sta sulle basi, si legge, e sta verso sinistra. Quindi, questo punto è importante. In Antil Camuno, disegnavano sulla roccia, non perché non si devono scrivere, non perché, facevano videogrammi, come i cinesi, ci devono sulla roccia, perché volevano disegnare, e se volevano scrivere, scrivevano, perché scrivevano scrivere. Abbiamo oltre, 260 scrizioni sulla nostra roccia, quindi, è una lingua utilizzata, sicuramente, o chissà quanti documenti, non abbiamo, inscrizione su pietra, sono su pietra, ci sono rimaste, ma su legno, su tavolette, su cera, poi, purtroppo, sono da me, tutto in una vita. Cività, molto importante, molto famosa, sono i centi, o i gatti, secondo Roma. Molto importante dire, che c'è, i camuni, non sono freddi, sono due, nazioni, difende, i camuni, di Daudo, la loro madre, successivamente, sono arrivati, in Italia, con un altro cento, quindi, anche abbastanza, ho stato fatto, in parola, prima, di Zagliarami, 3500 anni, il Cristo, nel tercero, il Cristo, molto successivo, ma, ci sono i punti di contatto, i centri di sostanza, ci sono tutti in prima parola, in cui, i camuni, avevano, dei rapporti, non otteniamo, ad esempio, determinatici del resto. Questa, il vicino del resto, storia di morte, che rappresenta, il cosiddetto di Dio, il camuni grossi, che ha una unità, mezzo uomo, mezzo cerno, il corpo, sulla testa, e questo, è il terreno di Cristo, storia del Marca, con, lo stesso, divinità, molto evidente, con divinità celtica, con delle caratteristiche, sembrano, praticamente, la stessa divinità, ma, questo qua, le serie archeologiche, sicuramente, cercano contatti, fra le civiltà, e spesso, contatti, con quelli giù. I camuni, chi sono i camuni, questa civiltà misteriosa? Beh, si può parlare di camuni, sicuramente, a partire, dalle tre ferie. Prima, non abbiamo, esattamente, idee di cui mi riguarda la nostra. Purtroppo, per quante tracce, abbiamo, in realtà, in questa manca, abbiamo, tantissimi, materiali, della nostra civiltà. Quindi, non sappiamo, come vivivano, in che villaggi vivivano, quanti erano, che tipo di costruzione facevano, perché non c'erano, praticamente. Abbiamo, tutti i loro disegni, sulla roccia, dove sono rimasti, perché sono rimasti, sono, quanti fatti lì, sulla roccia, quindi, abbiamo, in un futuro, ci stavano, per capire, come vivono queste persone, non ci rimastrono. Il nome, i camuni, ci viene trasmesso, per la prima volta, dalle fonti romane. cittadini, si è morto, un'altra cittadina di Cristo, anche qua, con Cattolo di Censone, quando parla, appunto, delle popolazioni, del nord Italia, dove, i tempi romani, guardavano verso l'interraneo, ancora, e cita, appunto, tutti i camuni, fra la popolazione, dell'ubertà. E sappiamo che, già, nell'epoca romana, erano accertati, avevano una loro identità, all'interno del contesto. Probabilmente, i camuni, erano, è un nome, che si veniva, naturalmente, all'area, dell'alte monica, ma anche all'area, dell'alte monica. Per quello che dico, perché ci sono, molto similità, tra l'alte monica e l'alte, in particolare, sono questi massimi, che, ovviamente, ci sono qua, a Borgo, e a Ossimo, ma si trovano anche, a Tegli, in particolare, molto simili. Quindi, anche qui, c'era uno scambio, tra le varie rotate, intervallino, molto interessante. E lo stesso, che oggi, in origine, ha trovato i soldi, perché, la più iscrizione, si ritrovate solo. Però poi, il maggior numero, di iscrizioni, è stato ritrovato, in particolare, ed è che viene, nello stesso territorio. Quindi, probabilmente, c'erano, veramente, gli stati, veramente, la stessa, lo stesso tipo di comunità, all'interno, quindi, queste, popolazioni, sottomessi, di una Roma, nel silice, ma, questo, non posso sapere, argomento, del nostro. Poi, facciamo un po' di scoperta, in quale camora. Quante storie, scoperta, l'altra testa, e l'altra testa, perché, in verità, la storia dell'altra testa, è molto bene, molto acera. Solamente, nel mio mondo, ce la trova, un po', abbiamo, sono vi segnate, che è una volta, mi should not dare, perciò, il diritto che rimane molto voce, per 15 migliori anni, è una cosa, secondo la mia madre, cosa è abbastanza sicurante, però, perché, non esistono, lunedì, che ci dico, la presenza, e non ci si va svolgendo dal mondo, eppure, si da un anno, perché i grandi parti, in cui la parma, si è colginaio, mi hanno sulle nuove, lavare strade, e tutti da stare ancora in fuori, Quindi la gente ha camminato di vivere sicuramente questa città, ma nessuno è molto meglio di desiderare questa città. E quindi in realtà crea questa città, oltre a camminare a tutta la mia città, come scomitere sul salto della città dell'estero. In anni 40, anche qui è una cosa molto curiosa, ma è quasi raccontata, ci sono degli studi nazisti, che avevamo fatto un po' una realtà, che è una realtà, che è un po' suporto di imparare da dieci anni anni della cultura della Maruca, e da un città di nuovo, perché ha fatto una realtà di informazioni e politiche. E noi, capisci a caldo, inseriamo tutti questi dieci anni anni, di condizionare la città, per il confinio di partecipare, a studiare le città di queste, a fare una tuttora, la vivente di un po' di noi. e che pensavo via sociale, appunto scritte alle lune antiche tedesche, e quindi cercare solo un'origine a bianca anche di venire. Ha avuto la visione di questa particolare armonia. Dopo l'era, nel 1955, si istituita il primo parco di afro-pastanza nazionale che è il Parco Nazionale di Cesare di Vesca di Namor. L'importante della storia della Marieta Monica è il primo avviso, che non è morto, che non è morto, che non è morto, che non è morto. Il signor Manuel Martini è un bellissimo studioso, che mi viene da cui fa conoscire la Marieta Monica di fondo alla Roma. Negli anni 60, 50-60, inizialmente le sue missioni di spirito in Marieta Monica, ha scritto un prezzo di musica, un polesto, ha distatto l'attenzione degli strumenti e probabilmente tutto questo movimento ha portato alla fine dell'unico strumento a portare la Marieta Monica a essere italiani, belli dell'unità italiana e scritta all'esterno. Sapete che il patrimonio dell'unità sono tantissimi oggi. In Italia abbiamo quasi cinquanta, che spaziano tra la Marieta di Marona, Venezia, Colosseo eccetera. Beh, il primo patrimonio dell'unità italiana è proprio l'arte ripesta della Marieta Monica. Per esempio, che particolare ricordo che è l'unità italiana. In verità però, l'arte ripesta, come probabilmente abbia intuito, non è un processo finito. La scoperta dell'arte ripesta non è un processo finito. Ancora oggi ci sono scoperte. Come ho detto, il mese scorso è stato inaugurato il mio barco, il mio canto. Ma ora no. In verità ogni anno ci sono campagne archeologiche che studiano il barco di Marieta Monica, quindi gli archeologi di Marieta Monica, e estraggono sotto terra nuovi cittadini rupestri, con una mette di 2.309 cittadini rupestri ogni anno. In verità hanno un patrimonio, che in verità è un patrimonio non ancora uno, di cui non abbiamo una panoramica complessiva del mondo. Si stima oggi che ci siano cittadini rupestri circa 140.000, sì, stima. Ma in verità sono molti i piccoli che stanno ancora sotto terra in un'assertiva di Marieta Monica. Le varie armoniche esistono otto pari. Anche questa è una cosa che vogliono vivere, spesso si associa dall'arte di questa varie armonica solo con un campo in mente. In verità esistono ben otto pari. Devo mettere in cui tre armoni. Cioè, in tanti altri costi ce ne sono. Quelli sotto. C'è esempio il percorso più ultimatico del core della Tate che si trova in altra parte, nella zona di Idolo Astotico. parte comunale di Senderon, che è il campo comunale di Pospardo. In tre parti del campo di Ponte, ci sono Serenina di Molina, il maestro di Cerno, e il maestro di Cerno, e il maestro di Ponte. Poi c'è la di Cerno, che è un'attività di Cerno di Pospardo, che è una vasta area su tre comuni diversi e in tanti siti molto importanti, come Fopi, come Campanine, come Capitale del Green, Zuh, adesso sono spesso citato in modo sporato, però rientrano tutti sotto questo papello. Il parco dell'aturoso, che è tutto inesimo, e il parco di Cerno Morale, del Green è molto piccolo che si trova nella zona d'Alfa Qualica. Cerno Morale. I Pituti. E' il nome, oppure, il parco di Cerno Morale, che ci si riferisce all'arco dell'estero. Cosa vuol dire il punto? Il parco di Cerno Morale è un pazzetto, sostanzialmente. E' un proprio diminutivo, e' quasi un spregiativo, verso questo loro patrimonio, che io ho detto, essere uno dei patrimoni dell'unità. Corsi del parco di Cerno Morale, questo concetto non è un altro problema. Probabilmente ha dei ritaggini culturali di questo fatto, di cercare di sviluppare questi disegni fatti sulla roccia, che diventano molto importanti. Cosa sono le decisioni di questa qualche monica? Beh, non sono intanto che dei bassi uniti fatti sulla roccia. Come vengono fatti questi disegni? In due modi, principalmente. Utilizzando lo sasso e li piacchiamo sulla roccia, quindi creano tanti piccoli bocchini, questa è la tecnica che diventa martellina, perché si martellina sulla roccia, oppure facendo dei graffitti, in cui si prende un sasso a punta e si graffia, e tra le retta roccia, facendo disegni molto sottili, e sono molto più difficili da vedere, e scelta di tutto il disegno martellino. Perchè è stata fatta l'arte un Pestravante Romano? Questa è la roba delle romane. Una volta che si infronta un disegno si chiede perchè hanno fatto questi disegni? Cosa avranno venuti? Beh, questo è il problema di base dell'arte un Pestravante Romano. E' il problema inspiegato ancora dal Pestravante Romano. Abbiamo pensato, come vi ho detto prima, disegni che sono iniziati più di 5.000 anni prima di Cristo, sono possibili nel corso dei secoli, hanno avuto un certo stop durante l'epoca romana, sono ripresi leggermente dopo l'epoca romana, e sono ritornati nell'ubbligo, un po' anche esplorati con i ritorni dell'epoca successiva. Quindi devi darvi una distanza cronologica di 7-8.000 anni, in cui ovviamente il significato cambia. Perchè le persone che disegnano, cambiano e disegnano per molti diversi. Quindi ho deciso di essere presi da sopra, realizzate nel suo contesto, e si cerca ogni volta di capire da che cosa possa essere associato. Queste sono le tipiche rocce della barca morca dove si trova inciscono queste. Questa è l'imbarbarco di un acquare, e ci parte di vedere perché sono molto diverse rispetto alle massi che abbiamo visto prima. Non sono delle massi supportate dal terreno ma non è piantante per lo chiamare. No, va, è un approccio. Dobbiamo avere un'immagente del terreno che non si continua con una barca che si tratta di un'immigrazione salvatore a livello della strada, vorremmo che si può scavare e continuare solo chi sa quante cose c'erano, chi sa quante altre decisioni, solo quali che si mettono di essere sofferto. L'altro è stato fatto su queste monologiche, che sono così particolari perché sono state irrigate dall'azienda di acciaio. Immaginate tutti i pazienti ai piedi che si tromano, diciamo, le uscite, le uscite, le uscite, le uscite, che sono efficissime. Il concetto è questo. Immaginatevi che il nostro viacciaio di cui parlavamo prima dell'epoca dell'acciaio che si scioglie, crea nel loro volontari l'arco che passa di tutti i momenti sulla roccia fino a misciare. Non tutta la roccia che si miscia precedente, l'aria magra che comunque era un mare che era un uomo, assumendo questo effetto molto particolare. Si trova soprattutto appunto nella parte centrale della roccia, la zona di campo di ponte, la zona di Nato, la zona di Cimbetto, dove appunto c'è anche la maggior parte dei cittadini vestiti. Quindi, non a caso, sono fateli, perché c'è questa lavagna naturale fantastica dove disegnare le corrette i cittadini. Quali sono i curi dell'arte più estra? Beh, io ho detto prima, la trattazione bisogna essere fortunati. Ad esempio, di trovare i disegni, come abbiamo visto, del pugnale di Remenello, sicuramente di risalire le diagramme. Ma quando si trova il disegno di Cerno, qua faccio sapere a quale epoca risalto Cerno, per quale essere di sistemare il fatto, o quale essere di oggi a dire. Infatti, questi ultimi problemi verdi che portano i diagrammi, anche oggi, a confrontarsi con diversi tipi di teorie per cercare di calibrare un po' l'idea più corretta per riuscire ad adattare meglio un disegno. Non è una teoria ancora confusa, ci sono tante teorie diverse. La teoria che andava per la maggiore era quella dello stimolo. Ovvero, si immaginava come, per la riduzione in mano del ricetto, che si partisse da una base più intima, appunto, dallo stimolo disegno molto aumentare, e si arrivasse a disegnare un nuovo punto di lavoro di circa 6.000 anni. Ho scoperto che, nell'età internale, ad esempio, si disegnava meglio che l'età di brotidi, e quindi, non trovavamo più questa cronogia di funzione dei libri, quelli più ottimi che disegnano meglio e poi, allora, si è scomporti un po' le carità e quindi, adesso, sono molto più cari nelle mutazioni disarmi. L'interpretazione. Guardo un cielo del progetto. Quando guardo questo, che cosa vedo? Vedo un animale con un neanche indietro. Chissà cosa immaginava la persona che si intendeva disegnare quelle cose. E quindi, qui, cercare di entrare nella mente del disegnatore, capire quali stavano i miti le credenze alla base di queste persone per cercare di interpretare quello che è andato poi a disegnare. La comprensibilità stessa dei disegni. Si sta disegnando sui rocci. Fini già, non si sta disegnando un dipinto, un pennello e un disegnamento più complesso. Si sta facendo un passo di piedi. bisogna cercare di dare una via prospettica. Quando un pericolo si sta lavorando su una superficie piatto, dopo che trovano i miei disegni di un carro, e era una cosa che si pensava per la cosa secondo gente. Perché, noi sogniamo questo, che un carro trascinato per due cavalli, se così ci andiamo tutti che un carro tra mezzo due cavalli. ma capiamoci bene come erano disegnati. Ci sono due cavalli distinto a tutti, giusto? Il carro visto dall'alto e le voce spiazzate si può andare. Noi c'è il carro che chiaramente ci sono tutti. Però, non è un carro naturale, non è un carro che dividiamo in prospettiva. E' un carro che è stato trasformato per esempio per esempio perché se avessi disegnato un carro in prospettiva su due rocce con un carro avevano capito avevano visto forse un cavallo e l'altro mi stava dietro in prospettiva e un muscolo vertebrulare. Questo era molto chiaro all'uomo che ha inciso quel carro che mi ha fatto capire chi sta vicino al mio carro. E quindi ho preso tutti gli elementi che hanno inserito per ricostituire circa questa immagine di realtà. E questo in realtà quale è il lavoro che sta indietro anche alla comprensione che sta facendo una grazia per capire cosa vede una persona che è pervenuto con me e riuscirà a ritenere un messaggio. Vi farò a seguire una veloce carrellata a due sette di cegelupesti che abbiamo nella cegelupesti di cui si partengono. Quando a voi si riferirà dalla cegelupesti sicuramente questi elementi sono ricorrenti di poter trovarsi. un'istituto tra i rimani il cavallo questa è una bellissima immagine di un cavallo con una persona in piedi sopra il cavallo con una giuzione abbastanza eroica con le braccia da verso l'alto con una specifiche condellini non so se vedete che sono dei piccoli petri aggraffito come se avessi un vestito molto particolare. Spesso è associato a questa incisione a una rete delle iniziazioni che si arrivano ai ragazzi da questa alta l'età infattiva è una specie di prove che vengono spesso fatte in tutore per il giro. Questi invece la giusione di cavallo questi sono molto molto diversi 1. i miei piccoli e con un altro anche l'interno i due colpetti questi invece sono i miei che per oggi faranno bene un cavallo collocato da un cavalliere e di fronte del cavalliere uno scudillo che tiene l'epidio del cavallo questo è spesso utilizzato per descrivere la società che c'è di Marica Monica come una società aristocratica qui c'erano i signori che andavano il cavallo e c'erano anche le persone che hanno potuto farci ai segni molti altri rivari che si trovano spesso nella zona centrale in un cavallo sono gli uccelli gli uccelli sono in due tipologie distinti ci sono gli uccelli acquatici che sono queste che si distribuono in particolare dal becco che punta verso l'alto se lo vedete qua un becco la tappera per il uccelli e ci sono invece gli uccelli finiti granacchi che sono gli uccelli che hanno il becco che hanno verso l'asso ci sono molti uccelli disegnati sulle rocce marcomano con molti un po' di esempio che il maione che si tratta molto bene che il cingua campanile cingua cingua ce ne sono molti altri che hanno dei ciuffi sulla testa e c'è proprio una particolare descrizione di questi animali in alcuni casi sono animali inventati perché esistono animali del genere altri casi sono animali come si dice che conosce la specie che si dice perfino che ti diminuisce a vedere altro animale il cerno c'è uno comunismo si vengono al braccio le uccelli perché invece c'è una concentrazione è importante sapere che non tutti quattro hanno gli stessi contenuti che ci sono ad esempio l'acqua vedete tantissimi cerni a campanile troverete moltissimi capanne foglie di nara troverete tantissimi cittadini ci sono delle tematiche che sembrano quasi venissero seguiti in un'open stop quindi in certi posti si fanno un intervento più decisore e non si fanno tanti cerni questi che vedete sono i cerni molto belli che si trovano sull'altra sponda rispetto all'acquare nella zona di serbina e sono i cerni con delle corna ad atto molto filoso questo qua invece è un cerno che deriva dei massi di cerni ed è questo perché nel sistema del patrogrammico questo è il corno molto alto e molto alto ed è un cerno che ha 50 anni per capirci esseri umani gli umani vengono rappresentati in varie azioni della l'esempio sono i combattimenti che vediamo tutte qua due persone che si scontrano due L che sono comunissimi si scontrano con gli scudi ecco qui e delle che le spalle due 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 queste si possono dare un cerno degli eleni sulla testa quindi si trattano dei poieri poi invece prendiamo il cuginamento qui stiamo facendo un conto di box scriviamo un conto che stavano uno in faccia e uno in lato faccio rotare la cuginamento del meno con queste particolari creste che hanno ammigli i copri capi infatti sono una cosa molto decorativa per quanto riguarda il camuno e l'arte ripesta infatti ci mettono spesso uno zampino da fare più diversi per curarli perché alla fine si è notato che sono un dato che le figure piene qui è difficile anche disegnare degli abiti per distinguere l'unica cosa su cui si può intervenire per distinguere come si è notato è flessualmente solamente più complicato che un elemento ulteriormente delle armi questo è il siddetto sacerdotico corretto intanto come sacerdote però la bellezza della dinamica di questa figura in una gran attesa di corse e l'altra piegata sicuramente lo posso fare anche qua il complicato è più alto spinto indietro al vento che è proprio l'idea della cosa se faremo un giorno altro con noi in piedi di Valle Carbonica questo è sicuramente l'incevano l'est che diventerà nel vento della morte questi invece sono i famosi astronauti che ultimamente stanno intornando oggi le trasmissione televisive del mistero sono anticipati in Valeronte e sono collegati a questi racconti fantasiosi di un'origine aliena che identifica a voi sono chiamati personati ovviamente perché hanno questo particolare complicato un casco del cosmonato con questi raggi anche qui anche oggi sono indecisi se sono in verità due minibatelli che stanno due linee con un piccolo scuro oppure sono in verità due figure che stanno facendo musica che resta un tabù nell'anno sugli investimenti il labore sono rappresentanti credo forse questo questo è un favore non so se riuscire a vedere la posizione se vede un uomo con una mano che tiene una barra per andare in ferro e con l'altra un martello e sta piccando sui piedi questo invece è una scena di altro qui si vede un uomo che sta trascinando in due temati una rata in mezzo l'uomo dietro che viene appunto il timore della rata c'è anche il bastone contro l'uomo per rizzare per rifatto per riuscire ma forse è una cosa che è interessante questa è una scena che viene così alle luci rosse alle spalle di due che ci sono due persone anche qui sono rata quindi la sua proposta altrimenti è riferito a un rito dialogramico differettività verità a cui forse era associato il disegno il presente altra figura molto comune sono i capane i capane chiamati così sono queste particolari figure che vedete molto quelle di qua che sembrano delle pesette se però osserviamo molto bene per esempio sono molto variabili perché si passi da in questo modo a condomini fatti quest'altro ma spesso gli elementi non corrispondono per avere poche case per esempio una case con gli occhi si sa bello avere una case con gli occhi però erano veramente case così e calcolate che sono state censibili sulle rocce circa 2.000 capane di cui miglia il concetto quindi c'era proprio una variabilità che voleva dare l'incisore per distinguere le capanne e quindi sono veramente capanne queste qua avevano veramente una casa l'universo dall'altro ci tenevano veramente a segnalarli tutti l'universo dall'altro oppure queste capanne avevano un valore diverso non tanto un miserio che rappresentava la realtà ma però invece un miserio come lo so uno stemma familiare che rappresentasse un clan familiare oppure secondo altri studi rappresentavano delle tombe tombe anche queste molto curiose in questa zona dell'Eutrubia fatte fuori una casetta dove erano le mostre c'era le monti perché a quel tempo si incinerivano i cadaveri e non si spegnivano integrati cosa comune cosa comune si vorrà la giornata bambina famosissima che è questa noi volevamo la giornata ho sentito dire che alcuni credono che sia un lupinetto quello che sarà un pace non è un lupinetto ma in verità è questo segno che viene dalle rocce della Marte Mondia in particolare è questa si trova una fonte di nano è una figura un po' rinnovata la rosa camunale è così composta da quattro i loghi e da nove pallone prego il nome della rosa camunale perché in questa particolare fondazione c'è un specie di gambo con due spine è sembra proprio un fiore sembra così dovrebbe essere così un po' rinnovata perché le due spine andano proprio in via della rosa camunale in verità però la parte qua che vediamo non fa parte del contesto della rosa camunale ma è una zeppa è una lettera della rosa camunale quello di stile trusco che abbiamo visto prima che è stata poi giunta lì che sembra però dare un'idea di fiore all'intera all'intera rinnovata la rosa camunale si è in questa conversione ma di un rispetto che è abbastanza difficile che è la formula smastica che qua è l'ultima è perché la nostra camunale in fondo è per me così come la smastica perché noi purtroppo ormai l'associiamo solamente al contesto razzista ma che si trova con una vera le cività dell'Orient quello in bianca che è l'uso l'utologico per il momento di curativo e in verità un sicolo sonale una cosa invece del sole e quindi la rosa camunale ci sono queste chiamate due rosa camunale in mare ulteriore l'abirinti ovviamente non assomigli perché questi sono l'abirinti infatti in un modo particolare sono chiamati l'abirinti ma l'abirinti sono dei bianchi noi dobbiamo essere chiamata linguistica ci immaginiamo entrare da una porta passare attraverso tante stradine e uscire dall'altra giusto? in verità questi l'abirinti non funzionano così sono le idee in cui si edita da un lato si gira si gira si gira si gira non si può sbagliare si segue la strada e si segue al centro si ritornano indietro con la stessa strada con un centro di uscita l'abirinto anche qua associato dagli antropologi e dagli archeologi ha un ha un valore rituale anche qua un rituale di ritualizzazione di passaggio in cui probabilmente venivano fatti entrare i bambini questi abirinti forse reali forse ideali forse sembravano solamente indici più propri che devono essere passati con un bambino tranne conoscendo questo abirinto tra l'abirinto e l'uscita rifacendo sicuramente l'intese ed è l'inotauro in modo ridotto in osse che ha presentato in questo modo neandrico anche su base greci a origine c'è l'accento in osse c'è la peste il minotauro punto il teso entra sconfiggio il minotauro esce entra faccio ed esce l'uomo che diventa relativi iscrizioni abbiamo parato lungo ci sono 860 iscrizioni con la letteromomica qui vediamo che questo è lungo l'alfabeto ho fatto l'elenco della lettera dell'alfabeto dalla a z però così non sono i modi ancora i nomi però compelmo sulle voci queste lunghe iscrizioni 4-5 case in cui sono tirate tutte le lettere che si utilizzano beh la curiosità delle 260 iscrizioni della valle canonica è che in istituto sono in gran parte parole vedete dopo una cosa e in secondo modo sono in gran parte due e questo ha messo ancora per il più fastidio agli archeologi perché io sono chiesto vabbè potremmo immaginare che erano i nomi ma che erano i 161 diversi dal po' esagerato che per loro possiamo immaginare che se erano i nomi di vita perché se erano i 160 di vita diversi dal po' esagerato questo è uno dei grandi problemi a cuore aperti durante questi ormai l'incisione di iscrizioni sono dunque possibili servirebbero per cercare per aprire che cosa non sappiamo leggere queste iscrizioni ma lo sappiamo tradurre cosa vuol dire che non possiamo dire che ho scritto vega vega ve però non sappiamo cosa voglio dire questa cosa l'ultima informazione che vi do poi è il che ci sono le storie abbiamo fatto appunto il panorama in particolare in particolare l'avvento concentrato 80 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 la 80 I caratteri latini sono delle croci, sono delle figure e rappresentazioni molto più piccole, come se io scendo di poca giorni, con un'altra che sta, c'è questo è un uomo inquietato, qua con il collo, un cacato di una forca, e un altro che sale vicino alla scala, sembra quasi di un caccio, però si intesa molto più pieno di poca giorni, oppure togri, con una pura fibrillina, direi con quella fibrillina, con uomini, sbagliatori, porta, caccio, caccio. Quindi anche in verità, ovviamente queste entrate nei ritmi ultimi dell'intimizzazione della nuova sono semplicemente decisioni discrittive, che risalvano all'epoca, questo. Detto questo, vi ricordo il prossimo incontro, il prossimo, dalle quattordici, sono il prossimo, il prossimo, il prossimo, il prossimo. E vi ringrazio per la mia attenzione in questa azione. Grazie. 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 se vedete la solita del Museo Toscana, spesso le trovate, hanno anche questi speroni laterali che si chiamano molto debili, però finisci sul tuo punto, con finisci la cavola. E questa è una caratteristica abbastanza. Sulla data che mangio dice, quella di un paletto, e l'utilità che non è tra l'entra, io leitavo poi in un piano in cui si trova, con chiudere la nostra parte, ad esempio, i punti di piedi che ho citato prima, si vedono di tanto, poi i punti di paletto, ci sono simplici, molto strumenti. I punti di piedi, per il giro, è sempre un'iniziazione di passaggio, andiamo a piccoli, in cui sono i punti di piedi molto piccoli, spesso, sono sociali, a più del bambino, gli archeologi, in cui abbiamo vissuto una nuova, in cui abbiamo il giro, in cui il porto viene sull'interno, sono correnti, però non abbiamo mai scelta. La paletta si rotta, perché se io mi scrivo pure la paletta, ti ho sentito tantissimo, si vanno a 50 anni 30 alle pannaie se la passano attraverso gli spetti, e poi negli ultimi tempi, Invece, per la maggiore, la tecnolina delle pareti eventuali sono trovati in protesto del figlio. Sono trovato parete, scuola, giocola, sono dovuto consigliare il reno del nostro appunto, quella zona unito fa, la massa padana. In questi protesti, i necromodi, sono trovati un po' di femminili, tra l'altro, queste parete, il figlio del figlio del figlio dell'incinerazione, sono trovati fisicamente, diciamo così. Osservate con il simbolo virtuale, e in questo modo, potrebbe essere trovato un simbolo. In realtà, è un simbolo ancora più troppo. Qui, come dicevamo fino a Purtroppo, per quanti disegni abbiamo in Pantamorca, che ha aperto il materiale di Purtroppo, e ha detto che sì, abbiamo trovato il mestri, un cucchiavino, un cucchiavino, un cucchiavino, un cucchiavino, un cucchiavino. E questa è una cosa strana, perché se ci sono mai vediamo a fare un altro figlio, il merano, che ha trovato il Valle di Pantamorca, gli hanno trovato, e per venti romani, erano quanti antichi, il San Deno, diciamo, un disegno fabbroso, tutt'istoria, e gli altri li hanno trovati. Però noi, sembra che non sia trovato, abbiamo questo nuovo patrimonio, ci sono i mestri, ma non è il materiale da confronto. E questa è la posizione di Purtroppo. Ma ci sono state dimostrate, delle conodate tra il popolo pieno e il dammone, sì. Allora, dimostrare semplicemente, diciamo che ci sono delle affinità, per esempio per quanto riguarda l'arco del segmento, queste sigla sono dei secchi, sostanzialmente. Ecco qua. Queste sigla sono grossi secchiose, secchiose funebre, sono spesso ancora sui dati esterni, soprattutto a una serie di motivi. Questi motivi trovano delle somiglianze con alcuni sensori per questa varia. Quindi gli archeologi spesso mettono a confronto le sigla con l'arco del esterni e dicono probabilmente ci sono di puntare. I romani, come per esempio interessante, i romani associano le origini comuni, alcuni casi verso i reti, quindi verso la zona, altri verso gli ungani, che soddiviscono la popolazione che hanno una zona del, non ricordo l'unanimo di Malua, ma non più spostato verso Verona, che comunque abbiamo fatto un problema. Quindi, in verità, c'è qualcosa sotto, purtroppo non sono ancora teorie chiaramente espresse, perché sono tutto sul fatto che qui in Valica Polica non è un confronto di materiali. L'ho sempre confrontato, non vuol dire che quello disegnato sia quello che arrivano effettivamente sotto. Ma quando c'è una dimostrazione, certissima. perché poi loro avevano anche, questa è una teoria che aveva detto, che avevano tante comunicazioni per esempio con i popoli germanici che scendevano verso l'Adriano. Non c'era un scambio di materiali, di donne, anche perché qui la vita non era facile, ma c'era un evoluzione anche in quel senso. C'è la teoria della via dell'acqua. che scende dal Paese Baltici, che avevano l'istratto dalla zona lontuale, dalla zona lì, e poi scendevano, c'erano questi percorsi che scoppiavano certi anche per i bianchiologi, nel popoli antiche si partivano tutto dal nord d'Europa, e fino all'uniterraneo. Questa teoria però ha dei tipi, ad esempio, perché fa passare più dell'anno la forza di Valica Molica, quando si ricompi e fa scendere il Valle dell'Anchino. Il problema della Valica Molica, che è appunto in discussione con gli strumenti imperibili, è la sua città di tagli di comunicazione. Prima di te la Valica Molica è un territorio scomodo di passaggio. Molto più semplice, sembrere davvero un'attrice ai viaggi, attraversare il passo del pentolo e scendere il costo. Quella è una via normalissima che viene usata per il video di comunicazione. La Valica Molica era scomodo e per entrarci non uscirci. Perché per entrarci bisognava arrivare sul lato di Gesù, attraversarlo, il lago, quindi con barche. C'erano vie laterali, lungo, corso lago, del lago. La prima via transitabile, carreggiata, inutile, è stata aperta all'industria del centro. Prima si andava a Gesù, si prendeva la barca, si sbarcava i sogni e si arriva all'altra volta. Quindi, la Valica Molica è diventare un mercato chiuso che, per commerciare, commerciava quello che veniva estratto all'interno, lo transitavano fino in seno, scambiavano con l'aria resciana e poi riprendavano. Non era una via di passaggio, perché non aveva una via di passaggio semplice. Stessi, voi ben iniziati, poi, se volete. In prossima lezione vedremo un tipo di situazione tra le Alpi, che è un posto effettivamente scomodo attraversato. Perché vedendo la popolazione che c'è anche un'altra popolazione pure che è andata bene in Roma. Esatto. Allora, mi chiedevo se questa via era... No, adesso in parte. Poi ci sono le politiche della Normandia che non so se sono anche loro del centro gallico, forse no, se non sono un'unica diversa, ma non sono anche legate con l'Università Italia per fare per fare un'unica per fare un'unica diversa e come i sambini della Valsabia che non c'è la loro come i sambini del centro Italia per cambiare solo le assonanze buono massime. un'unica diversa e anche molto lunga per la montagna si arriva a metter il treno e direttamente per il passaggio poi ecco gli avvini sono vituati a fare i pali come ho visto così le montagne non è che la gente si spaventava per dover passare la montagna anzi spesso era molto più spaventevole per passare fiume senza il monte è impossibile la montagna con difficoltà ce l'ha per fare quindi spesso si trovano quasi le montagne in cui ci sono fiumi grandi il fondo l'arbre si trovano così più assonanze tra una costa e l'altra dall'altro lato piuttosto che dall'altro lato della valle e queste sono sono in differenza che sono geografiche ma che possono difendersi la società città una curiosità sulla via dell'Ambra dell'inzione in Svizzera in uno dei tre castelli in patrimonio unesco c'è una bellissima rosa fotografica di un tedesco un annetto due annetti fa che ha ripercorso a piedi partendo da Venezia dell'anno ha detto se avete occasione passata andate a darci un'occhiata molto molto carina si sarà un'altra domanda visto che in base non esiste una stella di rosetta non esiste un niente con Etrusco e un'altra lingua conosciuta fricatura è che l'hanno imparato dell'Ambra 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 perché ovviamente hanno dei suoni più culturali che la truffa della U delle nostre ballate per fare il problema di interpretazione molto consistente e poi l'amore fondamentale la lingua non ti permette davvero una frase e quindi capire come funziona una parola grammatica non capire cosa è un verbo non capire cosa è un soggetto e questo tipo di problemi è capire l'interpretazione delle parole spesso fosse un'role molto forte molto aggrabbiata se abbiamo presente l'ipigrafia romana quando vede non si può fare niente non sai cosa vuol dire il DLSNM molto solo che sarebbe smerito non capire mai cosa sta dicendo il romanzo e ormai lo aspettiamo perché in verità facciamo tutta la literatura che ci spiega queste cose purtroppo diciamo lì non abbiamo i loro miti non abbiamo la monoteogonia non abbiamo i loro racconti e quindi in verità non abbiamo queste cose e capiamo poco o niente di quello che non i verità intendevano che non li facevano magari non ti scavano un cavallo ma intendevano un solito cavallo d'altro diventare ferito quindi vediamo un cavallo e abbiamo capito un cavallo perché ci manca tutta la chiave dire di queste cose che manca tutto immagina come abbiamo visto di cose da scoprire ma è qualcosa che ce ne sono ancora fino adesso è un mistero che bisogna ragionarsi questa stella che lo sei poi un punto misterioso parlando di stelle per non sapere fuori queste cose ecco ma questo è tutto il testo che è qui mi ha guardato perché ci vedo allora se volete stare a una zella luna è proprio qui dietro scopo è più veloce adesso a questo punto e poi e i propri amicati diciamo che abbiamo messo un cartello e quindi fermatevi e lo vedete alla costitura più radicale con il sotto di un pass però se non voglia ovviamente è stato un po' il posto si 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 ora di buono di buono questo qua adesso è un po' è 50 metri il territorio in buono non è tantissimo si 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 ci 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 ci